Quanto è difficile per noi accettare la realtà se la verità su noi stessi ci rivela qualcosa che non siamo pronti ad ammettere. È più facile non vedere la realtà che accettare la lontananza dalla verità ma in questo modo ci allontaniamo non solo dalla verità ma anche da noi stessi. Oggi guardiamoci dentro nel profondo del cuore per vedere cosa vi troviamo. Abbiamo il coraggio di ammettere i nostri errori? Cambiamo il nostro punto di vista quando il Vangelo ce lo chiede. Sei pronto ad analizzare le critiche che gli altri ti fanno oppure preferisci ignorarle e continuare la tua vita come prima?